Stiamo andando in Iran per mostrarvi i campi di rose e il metodo di distillazione dell'olio di rosa perché da secoli è tradizione di questo paese e siamo convinti che sia il migliore olio di rosa al mondo. Andiamo a vedere i campi di rose dove fanno anche l'olio essenziale e fanno anche l'acqua di rose hai ragione ma ci saranno le rose? Senti che divino un anno! Brava veramente! Positivissimo! Dai che non respiro! Credo sia un video! Grazie! Per mechino!